colpisco più forte o colpisco per primo? dovete sapere che per strada è meglio colpire per primo colpendo per primo, seppur non con massima potenza, per primi andando a contatto rompete il ghiaccio vi predisponete al secondo colpo e interrompete ogni azione dell'altro qualora stesse anche lui per colpire dopo un decimo di secondo la priorità è colpire, importante è non dare un colpo solo, perché? perché i fondamenti della difesa personale vogliono anche di quell'armata vogliono che devi continuare a colpire fino a che non stai al sicuro non dai un colpo, spari un colpo e poi vedi se è sufficiente queste fisse mentali di colpire e vedere se è sufficiente vengono insegnate da quelli che la difesa non la conoscono o che credono che difesa personale sia quando uno ti dice una parolaccia o ti guarda male allora non gli puoi menare troppo, noi parliamo di qualcuno che vi entra dentro casa qualcuno che vi sta facendo una violenza, quella è difesa personale, ok? in quel caso io devo arrivare subito e poi continuare a colpire, ok? pertanto il tragitto che deve fare la mano da dove si trova al bersaglio deve essere il più breve possibile ok? un colpo in gola allora andrà diretto mentre parlate, non farà uno, due se voi state con le mani giù un colpo in gola non sarà uno, due ma sarà diretto se voi state con le mani in su perché state chiedendo scusa un colpo al collo non sarà andare indietro, non è il tragitto più breve andare indietro il tragitto più breve è andare verso, il tragitto più breve è andare verso quindi questo è allontanarsi, non va bene scusa, scusa e vado a colpire non è così potente, ok? ne direrò un altro sto qui, uno e due allora dovete immaginare che il vostro aggressore sia una calamita e voi aveste le mani di metallo beh se siete così ho le mani giù e c'è una calamita non andreste mai indietro ma andreste diretti questo insegnamento chi di voi ha studiato per esempio Wing Chun, uno e Mario loro lo applicano al 100%, non caricano i colpi, ne tirano tanti seppur pianissimo non fanno male un colpo di quelli ma te ne tiro tanti, intanto ti interrompo l'azione noi dobbiamo fare la stessa cosa ma partendo con le mani giù con le mani giù o con le mani in una posizione credibile che può essere questa può essere questa vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni e sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte vuoi imparare a farlo anche tu? fai una prova gratis con me unisciti ai miei studenti clicca il link che trovi nei commenti